per l'arrivo in grana sono io non è la prima che abbiamo vinto della terza divisione la ragazza il fatto noi abbiamo un digno il comunque colombia tutta bamba mamma mia subito vallati a guardare che la dobbiamo mangiare non rai in fretta la terza e crea ho mamma mia su sita da te devi morire e spazio acqua e quadrato di testa chi la via detesta è quello che cazzo bene oh il primo tiro lovo bene così in cordelletta porco 2 non fa niente non fa niente work out Texas Ranger e rigore per cazzo mamma mia grande grande questo un po' di pazienza grande grande pazienza cosa ho fatto in agenda addosso che scrivo pazienza Layton Bain sul dischetto dobbiamo continuare Layton Bain è buono a tirare di colore mamma mia meno male così io ho voluto battere con lui perchè ce lo merita tutto tuo quel colore nooo dai non devo tirare cuti no si 600 700 bella così bella così bella lì uuuuuh che cosa è in co operatore ma di Maria ma che stai a diiii ma in realtà ci sta a cono nel momento in cui tu fai questo tiro la partita scritta che dobbiamo perderla è sempre così il destino è quello perchè il dioco dice che questo è il cooperatore e poi glielo faccio perdere ma guardavi la palla scritto eeeh eeeh no la ripartenza di ripartenza felipi bella 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 lì bella lì felipeee mamma mia incredibilmente lui magnificamente lui felipe felipe il ipad ho avuto bello di giù cazzo di proiettile boom arpio nel pallone boom la pasta no 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 d'attacchio parcazzo sicuramente è possibile che a un certo punto della partita cominciano a sbagliare tutti i passaggi bambini 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 no no oddio ma la sentivo perfetta sta zitto no sta bene da piacere no boro boro faccialo cazzo io lo sapevo che andava a finire così io lo sapevo io lo sapevo era scritto era però in due partita andavano di stessi punti si ci ho pensato pure io non è vero una seconda partita eccola qua cioè se non vinciamo perdiamo anche questa ma giocavo con un coso quei civetti mappagalli che stanno sotto casa mia uuuh qui si sta ma giocavo vediamo anche questa tu non sei consapevole vero è taglio è taglio è taglio è taglio è taglio sta pure in casa nostra di nostro qua subito buco al centro falcelo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 mamma mia che porca troia questo è uno schema eh ok 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 è fischia i falli oh oh che cazzo c'ha rallentato vabbè 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 tia tranquillo tranquillo tira a sinistra eh 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 ah vabbè comunque è bello cominciare a così dopo 8 minuti si si Sergio Ramos 見ati uber do pietà per lui dopo 9 minuti non ci crede neanche lui incredibile dai però questo mazza ma tanto è riacchiappato cioè incredibile Agüero ha riacchiappato guarda quest'altro coglione dai ragazzi abbiamo fatto dai 2 a 1 2 a 1 ma gli errori che stanno a fare i giocatori nostri in questa partita dobbiamo parlarne è incredibile incredibile è veramente incredibile sto gioco guarda quando ho tirato vai e fa il culo va come cazzo gli pare fa ma veramente cioè sono in grado di fare ste cose i giocatori tuoi gioco ma potremmo pure fare se mettiamo serie ma come diranno segno dai ma questi sono argento o no se io ti dico di Maria Dalla non segno c'è c'è oddio mio Dani Alves no Tetti c'è qualcosa di Maria no Antonio 10 volte meglio eccolo eccolo dritto ma lui va lui va lui va non lo ferma nessuno vai Antonio vai Antonio è partito cavallo lo faccia Antonio vai non lo ferma si passa anche davanti Antonio direttamente dalla lavanderia Antonio 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 ancora fa la sua Antonio però segna the lord antonio non è antonio chi è tetti se è uno dei due 0 0 0 1 che partita del cazzo mamma mia regaio la prossima partita voglio i toti che i toti soppertutto un meglio non meglio c'è cazzo fa questo applausi frax e vabbè dai prossima partita bella ciao